Un aggettivo che descrive l'importanza del tour dell'avenir a Condove. Sensazionale. Aggettivo che descrive il tour dell'avenir qua a Condove. Fantastico. Rinfrescante. Il tour dell'avenir qui a Condove. Unico. Il tour dell'avenir qua a Condove. Emozionante. Coloratissimo. E conserva il suo baio per l'estero, tutto va bene per l'equipe francese. Stefano, 3 minuti, 25 secondi, toujours d'avance. Quindi anche l'athleta canadese che va vestire il simbolo del primato. Coinvolgente. Solare, si può dire? Solare. E' un po' di sotto. 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 Grazie.